Noi siamo le due selenie, questo due è composto da Nora e Aran Spignoli-Soria. Suoneremo la toccata di Domenico Paradisi, rilavorata per due arpe da noi, la suonata per due arpe di Krumpholz, l'aria Bevato fresco sorriso della rondine di Giacomo Fuccini e infine una pizzica tarantata di Lincoln Almada in Stellata Don Mauro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.